Assolutamente, anche perché ci sono state anche tante cose che ci sono piaciute poco, perché noi eravamo in un momento difficile, insomma, prendere 5 gol, stavano sparando sulla croce rossa veramente, anche di più di 7-8, noi non eravamo in campo, non eravamo con la testa al reggio, questo è un errore che abbiamo commesso, dal quale abbiamo imparato, però è chiaro che domani vogliamo fare una partita seria e sappiamo di avere davanti una squadra che meriterebbe anche di vincere il campionato per il percorso che hanno fatto, insieme al Modena, sono le due squadre che entrambe meriterebbero di salire di categoria, organici estremamente importanti, allenatori che hanno fatto bene il proprio lavoro, società importantissime, quindi sappiamo che sarà una partita estremamente difficile, però noi vogliamo onorare il campionato. Io a Teramo sono stato bene, mi sono trovato bene con voi, mi sono trovato bene con quelli che mi hanno affiancato quotidianamente, mi sono trovato benissimo con la curva, perché ho conosciuto un aspetto di una tifoseria che non conoscevo e che ho saputo apprezzare soprattutto nei momenti di difficoltà che abbiamo passato, e quindi mi sono trovato benissimo con questo gruppo di calciatori, quindi io posso solamente dire che a Teramo sto bene e sono stato bene. Poi per quanto riguarderà il mio futuro, è chiaro che prima dovremo sapere il futuro societario.